Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. A Trieste, il mistero che circonda la scomparsa di Liliana Resinovic continua a intrigare e a preoccupare. Durante un'intervista a Mattino 5, Gabriella, una stretta amica di Liliana, ha fornito ulteriori dettagli sul momento della sparizione della donna. Ha raccontato di aver camminato appena un minuto e 50 secondi dietro a Liliana il giorno della sua scomparsa. In quel momento, Liliana stava gettando i rifiuti, ma poi è misteriosamente sparita nel nulla. Gabriella ha continuato il suo racconto, ripercorrendo i luoghi comuni che Liliana aveva visitato quel giorno, dalla fruttivendola al negozio Wind. Tuttavia, il percorso esatto di Liliana rimane un enigma. Le telecamere di sorveglianza e i testimoni non hanno fornito indizi significativi. La descrizione dettagliata di Gabriella sottolinea il fatto che, nonostante la brevità dell'intervallo, la scomparsa di Liliana è avvenuta in un istante. Lasciando Gabriella con il rimpianto di non essere stata abbastanza vicina da poter cambiare il destino dell'amica. Il racconto si conclude con le parole cariche di emozione di Gabriella, che esprime l'angoscia provata nell'affrontare il mistero della scomparsa dell'amica. Un sentimento condiviso dalla comunità, ancora in cerca di risposte.